Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere il seguente limite per x che tende a più infinito di x alla quarta meno x al cubo più 2x al quadrato più 3 fratto 2x alla quarta più 3x più 2 Cominciamo ad osservare che il nostro limite può essere scritto anche come limite per x che tende a più infinito di Mettiamo in evidenza il numeratore e il denominatore x alla quarta così otterremo x alla quarta che moltiplica al numeratore 1 meno 1 fratto x più 2 fratto x al quadrato più 3 fratto x alla quarta Tutto questo fratto, mettiamo in evidenza anche x alla quarta al denominatore quindi x alla quarta che moltiplica 2 più 3 fratto x al cubo più 2 fratto x alla quarta Naturalmente è possibile semplificare x alla quarta al numeratore e x alla quarta al denominatore e otteniamo soltanto il limite di ciò che compare nelle parentesi tonde Ovviamente il limite quando x tende a più infinito di 1 su x è pari a 0 di 2 su x al quadrato è pari a 0 così come pari a 0 il limite per x che tende a più infinito di 3 fratto x alla quarta stesso discorso vale anche per 3 fratto x al cubo e 2 fratto x alla quarta ciò che rimane è un mezzo ed è proprio il valore del nostro limite quindi in questo caso il nostro limite è uguale ad un mezzo Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita